Ciao, sono Rossella e oggi faremo una lettura angelica sull'amore, quindi vediamo cosa questa persona pensa veramente di te, ok? Premetto che faremo prima una preghiera di protezione per connetterci con l'arcangelo Michele e con gli angeli e poi iniziamo subito con la lettura, una lettura molto bella, molto potente, utilizzeremo delle carte con dei messaggi molto chiari e specifici, ok? Quindi invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono, invoco te arcangelo Michele e ti chiedo con amore vero, puro e sincero, di tagliare tutte le corde di paura tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e direzioni del tempo spazio. Angeli della coscienza micaelica, vi chiedo con amore vero, puro e sincero di aiutarmi in questa lettura angelica a portare i messaggi più giusti per il massimo bene di tutte le persone coinvolte, il massimo bene supremo. Grazie caro Dio, grazie arcangelo Michele, grazie cari angeli, è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia ora, per sempre e per l'eternità. Ok. Diciamo, mano a mano che uscirà il messaggio, vi mostrerò cosa hanno da dire gli angeli. Allora, prima di tutto l'arcangelo Michele dice di esplorare le tue possibilità, nel senso che hai l'opportunità di andare avanti in questa direzione, perché ti sta comportando anche un po' di energia, perché magari vuoi manifestare una persona specifica, sei innamorato, sei innamorata di questa persona, quindi vorresti che entrasse a far parte della tua vita o che comunque il vostro rapporto, se già sei in una relazione, continuasse, diciamo, in maniera positiva per entrambi, però diciamo ci sono anche altre opzioni, altre opportunità, anche se in realtà diciamo che è un invito da parte dell'arcangelo Michele di chiedere aiuto, guida e assistenza, affinché tu possa essere guidato, guidata nella direzione più giusta per il tuo massimo bene. Però diciamo che l'arcangelo Michele porta anche questo messaggio, la persona di cui stai chiedendo, stai chiedendo informazioni, quindi quest'uomo o questa donna è una persona di fiducia, una persona che quindi devi capire veramente dentro di te cosa vuoi veramente, se la vuoi veramente vai avanti a non fermarti, se sei indeciso lasciala andare, perché stai privando te stesso o te stessa o stai privando questa persona di trovare la persona più adatta, perché alcuni di voi vogliono la botte piena la moglie ubriaca, invece non funziona così, bisogna avere le idee chiare e ben precise, avere chiare le idee di cosa io voglio veramente. Quindi l'arcangelo Michele ti sta anche dicendo usa la tua immaginazione e visualizza la risposta, perché hai posto questa domanda, se questa persona è giusta per te, è una persona assolutamente di fiducia, entriamo un po' più nello specifico, perché comunque il tuo cuore conosce la risposta, vorrei utilizzare una di queste carte, vediamo che messaggio c'è, va bene, sto usando diversi mazzi, mi piace questa lettura, allora abbraccia attraverso l'uno nell'altro, tu trovi i pezzi mancanti, assolutamente, qua c'è bisogno di unione, di comunione, un invito ad avvicinarsi empaticamente ed emotivamente alla persona amata, anche di avere un'apertura di cuore, un abbraccio può essere anche un abbraccio spiritualmente parlando, un abbraccio emotivo, una comunicazione aperta da cuore a cuore, avere anche il coraggio di portare un messaggio d'amore a questa persona, non sempre sono gli altri a doversi dichiarare per primi, magari il primo passo lo devi fare anche tu, vediamo queste carte sono stupende, sono i messaggi d'amore che ci danno le carte, sono uscite due carte, vediamo un po', allora diciamo che ci sono delle dipendenze affettive, da parte tua o da parte di, in questo caso da parte tua esci dalla dipendenza perché questo non fa altro che allontanare l'amore, l'affetto di questa persona, va bene? A qualche livello stai dando troppo di te, stai dando troppa della tua energia, va bene? Riprenditi il tuo potere, va bene? Ritorna ad essere nel tuo pieno potere, non stanno dicendo che è sbagliata la cosa perché questa persona è una persona di fiducia, sei tu che alle volte dai troppo e invece dovresti anche aprirti a ricevere e dovresti pensare un pochino di più a te stesso e a te stessa, presta attenzione ai segni perché ci sono dei segni, ok? Molto chiari che l'universo ti sta mandando, l'amore divino ti sta mandando attraverso i numeri, le piume, i cuoricini, attraverso anche delle sensazioni, delle parole, delle frasi che sentiamo dire in televisione piuttosto che magari andiamo a fare una passeggiata nella natura, sentiamo una conversazione, ecco quel messaggio è giusto per noi, vediamo ancora una carta, si ottimista, quindi c'è un discorso di eliminare le dipendenze, di staccarti, cioè di non essere morboso o morbosa, di far sì che la relazione fluisca in maniera naturale, spontanea e poi praticamente c'è la carta dell'ottimismo, va bene? Presta attenzione ai segni, quindi non è una lettura negativa, ti sta solo dicendo non annullarti per questa persona. Ora vediamo un po' queste carte magnifiche, cosa vuole dirci questa persona? Cioè chiediamo all'arcangelo Michele di dirci, cioè cosa ha la sua anima col rispetto del libero arbitrio, col rispetto della sua anima se superiore, chiediamo a Michele di portarci il messaggio che quest'anima vuole portarci, cosa ci vuole dire, cosa ti vuole dire, qual è il messaggio che ha per te? Io ti voglio, bellissimo eh? Io ti voglio, ok? Vediamo un po', io voglio dirti quello che penso, quello che sento, scusate, voglio dirti quello che sento, cioè questa persona vuole sternare il suo amore per te, questa è una cosa bellissima assolutamente, sto facendo di tutto per dimenticarti perché in alcuni casi c'è la vostra resistenza, il vostro tira e molla, la vostra non certezza, la vostra non sicurezza, questa la trasmettete a questa persona, quindi questa persona vi ama, ha paura di aprire il suo cuore, ha paura di dimostrare i suoi sentimenti per voi, per il semplice fatto che voi stessi eh vi tirate indietro, siete un po' altalenanti, quindi cercate di fare chiarezza, il consiglio che vi posso dare da parte dell'arcangelo Michele è quello di eh pregare in questa per questa situazione, di capire bene quello che voi volete e agire di conseguenza, se sentite che questa è la persona giusta, fate, aprite il vostro cuore, abbiate una comunicazione aperta, non dipendete da lui, non dipendete da lei, recuperate il vostro potere, però aprite il vostro cuore all'amore, all'amore vero, puro e sincero perché questa persona è meritevole della vostra fiducia, bene io vi auguro una giornata fantastica, se volete fare delle letture con me basta contattarmi, io utilizzo le carte ma faccio anche delle canalizzazioni di connessione diretta con l'arcangelo Michele utilizzando la protezione psichica proprio per avere una maggiore connessione diretta, una connessione soprattutto protetta per il vostro massimo bene, il massimo bene di tutte le persone coinvolte e nel rispetto soprattutto dell'anima se superiore, libero arbitro e volontà di tutte le persone coinvolte. Un abbraccio e a presto, ciao ciao!